Guarda, questa situazione personale persisterà per altre due settimane, quindi in queste due settimane cosa ne dite? Per voi sarebbe possibile far uscire per ultimo e trovare insieme una soluzione? L'anatore, magari c'è un atleta, non lo so, su questi aspetti anche legali e formali devo dire che sulla sicurezza non ho le conoscenze. Ok, farlo calmare, rassicurarlo che lui si è sempre comportato bene in molte situazioni e poi chiedendogli successivamente quando è possibile avere un colloquio di sparte con lui, nel colloquio eccetera. E quindi anche nelle chat emergono queste cose. Allora, siamo sempre sul nostro modello fa spesa e allora andiamo dietro, abbiamo detto, noi come società dobbiamo comunicare che qui è sorto un problema per via di una dimenticanza, perché ha avuto delle conseguenze e non possiamo né far finta di niente né possiamo arrabbiarci, ricordiamoci le tre immagini, né far finta di niente né arrabbiarci, quindi comunicare con assertività fornendo un feedback nutriente e perciò in quel momento lui è la persona più arrabbiata e mortificata e questo hai detto bene Frida e anche Anna Maria, Frida ha detto lui sarà molto arrabbiato per conto suo e Anna Maria ha messo l'attenzione anche sul direttore sportivo che può essere arrabbiato, perché trovare i soldi per sostituire le cose rubate ci deve pensare a lui e quindi come possiamo evitare la febbre emotiva in quel momento? Intanto attraverso la regolazione emotiva in questo caso da parte del direttore sportivo perché è lui che deve fornire il feedback e perciò deve agire su di sé non arrabbiandosi, giusto Anna Maria, evitando toni accesi e immedesimandosi, giusto Frida, pensando alla rabbia e alla mortificazione del custode. E quindi dire, ascolta, adesso sono sulla mail e non vedo, torno da voi. Sono Frida, no infatti ecco perché avevo detto poi di volontariato proporre che sia una colletta per evitare che il volontario si sia, si senta troppo la causa di una perdita dove già la società stessa valendosi di un volontario significa che anche le pulizie si è capace che fanno i volontari in una situazione del genere comunque, sono delle realtà del genere. e quindi ridistribuire diciamo un po' anche le responsabilità in modo che ci sia un eccessivo carico sulla società e neanche con un'eccessiva responsabilizzazione del volontario che è l'ultimo ad uscire, controlla le luci perché è anche quello, cioè voglio dire, dentro ad una palestra anche le luci si è altro che fanno noi. Adesso poi succede che queste sono delle possibilità di andare a migliorare anche qualcosa, no? Diventa una possibilità di migliorare qualcosa. Però mettiamo anche i passi nella giusta sequenza, ok? Si è verificata questa situazione, un passo alla volta. Allora evitiamo reazioni a caldo. Il primo responsabile abbiamo detto della distensione emotiva è il direttore sportivo, siamo d'accordo, no? E' lui quello che è comunque il principale responsabile su questo e perciò è lui che deve regolare le sue emozioni perché potrebbe essere lì e pensare adesso come faccio a trovare i soldi che già non sapevo come arrivare a fine campionato, ok? E allora, cioè, come io amo dire, mette in bozza le sue emozioni, cioè non è che lui è arrabbiato, ma ha ragione veduta, cioè perché a lui comporta anche a lui delle conseguenze. mette in bozza le sue emozioni, riconosce, sono arrabbiato, guarda, adesso metto in bozza le mie emozioni e affronto questa situazione. Ritrovare gli oggetti, noi li abbiamo ritrovati. Ah, può darsi, eh? Questa è bellissima. E guarda, è una delle altre alternative, vedi Anna Maria, dicevi, ma alternative adesso non mi vengono in mente, vedi, a mettersi insieme lì e dire, oh, ascolta, qui è successo questa cosa, chiedere, no? Cioè, quando possiamo parlarne? Possiamo parlarne? E allora va bene, arriviamo al momento in cui ne possiamo parlare. E chiedere a quel punto, guarda, normalmente lo devi chiudere tu, no? Cioè, ieri eri tu il responsabile, quindi chiariamo se era da ora lui il responsabile. Sì, guarda, ero io il responsabile. Abbiamo constatato che il portone era aperto e questa notte sono entrati delle... cioè, e questa mattina mancano queste cose, no? Secondo te sono state rubate? Potrebbe anche non essere state rubate, no? Quindi è stata aperta, non troviamo più le cose. Secondo te cosa può essere successo? Cavoli, ho lasciato io aperto la porta, sarà che hanno rubato le cose. E quindi, quindi c'è ricondursi al suo comportamento. E quindi sappiamo, allora qui arriva la valorizzazione, no? Guarda, siamo molto contenti del tuo lavoro, sappiamo che lavori sempre con molta meticolosità, però adesso noi siamo di fronte a un problema, no? Cioè, arriviamo al supporto. Ti serve aiuto per questo? Cosa può essere successo che tu ti sia dimenticato, visto che normalmente ti va sempre bene tutto, no? E allora salta fuori, cioè, hai bisogno di supporto. Cosa può essere successo? E salta fuori che in realtà da tanto tempo gli stanno chiedendo troppo e lui non se la sente di dire che non vuole più farlo. E perciò diventa un'opportunità per condurre anche le altre persone alla manifestazione del bisogno e al diritto di dire di no e ad essere visti all'interno del pacchetto delle proprie responsabilità e della propria motivazione. E poi l'alternativa comportamentale è proprio questa, no? Guarda, non esitare a manifestarcelo, faccelo sapere perché altrimenti siamo tutti qui a dover subire delle conseguenze. Come possiamo fare a rimediare? Pensiamoci insieme. Allora, come possiamo fare a rimediare? Ma ci sentiamo un po' tra colleghi, no? Del direttore sportivo, con gli allenatori, con quegli genitori che spesso partecipano attivamente e qualcuno dice, guardiamoci un attimo qui intorno, cosa volete che faranno mai con queste magliette che hanno rubato, no? E magari persino ritrovarli. Oppure pensare che siano stati rubati questi oggetti, salvo poi ritrovare in un qualche maglietto nell'angolo. E questo già. E quindi vedete come da una situazione che molte volte porta ad un'escalation, no? L'ha arrabbiato il direttore sportivo, ma come hai potuto tenere chiuso? E lui dice, ma cosa vuoi dalla mia vita? Io sono qui come volontario, una volta che mi scordo una cosa, mi prendo anche il pesce in faccia. Ah, vabbè, va bene, sono involontario, però quando ti sei preso un compito, devi starci dietro, altrimenti vedi che adesso andiamo in campo e non abbiamo i palloni e quando dobbiamo andare a fare la partita non ci sono le magliette. E l'altro dire, ah sì, sì, questa è la tua gestione a risparmio, puoi risparmiare su tutto, anche sulla pelle delle persone e guarda cosa ti ha portato la tua mania di risparmiare e di voler sfruttare le persone. Vedete come, cioè, è impossibile una comunicazione come questa che vi ho fatto vedere adesso? Sono possibili queste escalation symmetriche, si chiamano. E questo è aggressivo, affermando anche molti diritti, ma senza vedere quelle che sono gli altri, quelli degli altri. Ok? Siete con me? Scenari come io adesso ve l'ho delineato, è immaginabile anche in un contesto organizzativo in cui succede così? Sì, certo, anche con voce molto alta, con urla. Giovanni, ce lo puoi spiegare? Rischio uguale a probabilità per danno, rischio di furto esiste? Occorre minimizzarlo, occorre metterlo nell'analisi del rischio? Sì, allora, io faccio diversi lavori. Quella è la legge del rischio, rischio uguale probabilità per danno, si usa in molti ambienti tecnici. Quindi diciamo che il rischio che possa succedere un qualcosa, anche un incidente in palestra, un qualsiasi cosa, è un rischio che deve essere valutato. Anche il rischio del furto, oggettivamente, è un rischio da valutare con idonee procedure di sicurezza, ecco. Con quello che volevo raccontare è una mia piccola esperienza, con l'occasione. Mi era capitato appunto sull'assertività, sulla comunicazione, sul volontariato, di fare il volontario in una manifestazione sportiva. Ero volontario e a un certo punto è arrivato, insomma ero a gestire un'area, è arrivato un responsabile, cioè in quel momento non c'era nessuna situazione di rischio, è arrivato gridando Io sono responsabile, ma non c'era nessuna situazione di pericolosità, mi ha sgridato brutalmente, allora io ho detto vabbè, signori io oggi non faccio più il volontario, me ne sono andato via, perché per essere trattato così male, in maniera poco assertiva, e quindi volevo portarvi appunto questo mio esempio. Infatti non è tanto teorico, ho inventato questa escalation simmetrica, perché qualcuno si crede in diritto di tirare fuori il capo, di tirare fuori l'esperto, ma tu chi sei, che sei un volontario, stai ai miei ordini? Perché esiste così? Esiste così credo, no? E non a caso io ho scelto questo scenario perché proprio dentro questo c'è anche immaginato una gerarchia, no? Cioè siccome sei volontario non sei pagato e quindi sei uno sgarzino, cioè è così che succede. E tra l'altro io avevo molta più cultura di lui, tante cose, però sono stato trattato come l'ultima ruota del carro, ecco sì. Grazie, grazie. Qualcun altro ha anche un'esperienza da condividere, perché è dalla vita vera che noi possiamo anche imparare. Io ho immaginato questo scenario perché so, so che possono verificarsi delle escalation dove in realtà con calma e con empatia e rispetto. Anna Maria. Più che un'esperienza personale volevo riagganciarmi a quello che è stato appena detto. E riflettevo sul fatto che proprio perché un volontario è tale, quindi non è pagato, lo fa per passione, per interesse, perché è il suo tempo libero, perché ha piacere, è tanto più importante per quel motivo e quindi va valorizzato ancora di più e va premiato ancora di più di una persona che invece lo fa per interesse, perché è il suo lavoro, eccetera, eccetera. Quindi io rovescerei la scala, come dire, gerarchica, proprio perché è volontario ed è lì per gli altri, perché si dona agli altri, è più importante, va valorizzato e quindi va tenuto in massima considerazione. Ed è quello che, come diceva qualcun altro, è più facile perdere, se non si valorizza abbastanza. Viceversa chi lo fa per dovere o per lavoro ha interesse a mantenere in qualche modo e quindi a regolarizzare il proprio comportamento e quindi forse gli scontri sono meno facili e si arriva ad un accordo in maniera un pochino più gestibile, ecco, forse meno alzando meno i toni. Forse chi è pagato sopporta anche meglio, oppure fa il pugno in tasca, come noi diciamo in Germania, no? Cioè fa il pugno in tasca. Allora, ricordiamoci sempre questa I have a dream che io ho condiviso con voi in apertura, no? Che lo sport sia un gioco in cui vincono tutti. Per il volontario la sua vittoria è essere riconosciuto, essere rispettato, essere coinvolto. Ma lo è per tutti, lo è per tutti e ognuno, ognuno parte in causa a lavorare sulla propria assertività e sul rispetto verso gli altri, sull'empatia. Perché adesso vi rovescio il caso, cioè ci sono anche dei custodi, dei volontari che proprio con questo scudo davanti, io lo faccio a titolo gratuito e quindi voi non mi potete impartire ordini o lezioni. Esiste anche questa parte, no? Esiste quello che fa bene tutto e nel caso in cui va male o perché arriva qualcuno che fa l'esperto, li mangia in testa, ok? Poi però ci sono anche dei volontari che sono veramente prevaricatori, pieni di rimproveri perché io lo faccio a titolo gratuito, quindi lo faccio come volontario e quindi l'assertività è a 360 gradi. Verso i volontari, no? Perché danno il loro contributo, ma è proprio circolare. E questa è la cosa che credo sia molto importante, che ognuno per sé trova consapevolezza emotiva, motivazionale, regolazione emotiva, un atteggiamento di ascolto, di domanda, di coinvolgimento, di connessione, di relazione, ok? Tutti, tutti. Con i materiali che vi ho dato, e credo che questo modello fa spesa, sia davvero, abbiamo i punti essenziali. A questo aggiungiamo le caratteristiche dell'assertività, no? Cioè rivendicare il proprio bisogno e che contempla anche l'autoconsapevolezza. Nell'assertività è contemplato l'autoconsapevolezza, allora cominciamo ad avere meno conflitti e quando ci sono dei conflitti, quando ci si incappa in delle situazioni anche un po' critiche, allora se ne esce in maniera costruttiva e creando un contesto in cui alla fine davvero tutti vincono, ok? Io vi propongo, Anna Maria, è la mano ancora alzata da prima oppure c'era qualcos'altro? No, scusa, abbasso subito, l'ho dimenticata. No, 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 a volte non capisco molto bene. Allora, io ho ancora un altro scenario da guardare insieme, perché vedete come poi entriamo anche a comprendere un po' le dinamiche quando entriamo nella carne viva delle relazioni umane, delle relazioni interpersonali, perché dove da un lato qui diciamo, oh, è davvero un bravo collaboratore, un bravo volontario, va valorizzato, andiamo a scoprire che a volte c'è anche un abuso di certi ruoli. E per quanto riguarda da parte dei dirigenti sportivi, no, che con autorità vogliono affermare certe... Oppure, ma sulla scala della gerarchia, perché le dinamiche sono infinite, le dinamiche sono infinite. Nel trattare un caso entriamo anche nella complessità delle dinamiche possibili. Ok, allora, se siete d'accordo, oggi pomeriggio facciamo una pausa un po' più lunga, arriviamo alle 17. Io a questo punto farei almeno fino alle 15.40 di pausa, un quarto d'ora di pausa, dopo un altro scenario su cui disquisire insieme. e facciamo un po' question and answer, guardiamo cosa ci possiamo portare a casa. Tra ieri, no, e che lavoravo con i miei collaboratori, con le mie persone, a domani che torno, cosa cambio io rispetto a prima? Vi butto già lì questa richiesta, perché alla fine facciamo anche take home message. Cosa mi porto a casa? Quali sono dei cambiamenti concreti che da domani in poi voglio mettere in campo che prima non facevo. Ok? 15 minuti. Alle 15.40 ci rivediamo. Intanto, tra poco, condivido con voi una traccia ideale che in realtà potete anche completare con alcune cose che sono emesse adesso dal nostro confronto. Per esempio, quello di indagare se il custode stesso ha dei problemi di comunicare con assertività ai suoi bisogni, no? Che magari si sente in sovraccarico e non ha il coraggio di dirlo o non se la sente, o che sia. Però, volevo un attimo vedere assieme a voi se siete dentro anche all'obiettivo del nostro incontro oggi. Noi abbiamo detto come sostenere la motivazione. Prima di arrivare ad una soluzione ottimale e andare a vedere il secondo caso, ne avrei anche un terzo se volete, sapere, siete consapevoli come i temi che oggi noi abbiamo affrontati sono in collegamento con la possibilità di sostenere la motivazione dei collaboratori. E sostenere la motivazione ma proprio all'interno delle relazioni nei sistemi complessi quali sono. Perché il feedback è così importante? Per la motivazione. Faccio una piccola verifica. non me ne abbiate. Siete dentro, no? Perché la gestione del feedback è così connessa con la motivazione? Perché da un polso immediato della situazione. e quindi verificando immediatamente se il messaggio è arrivato e se è arrivato nella maniera giusta io posso immediatamente anche non solo valorizzare ma anche eventualmente correggere una rotta. quindi indirizzare meglio la mia comunicazione successiva. Certo, sì, assolutamente, assolutamente, no? C'è proprio... Non le mettiamo, non archiviamo le cose salvo poi ritrovarcele cento volte più forti rispetto a, no? C'è un feedback immediato da subito tutte le informazioni che servono per far andare bene le cose e quando le cose vanno bene le persone sono anche più motivate. però vi ricordate che avevamo anche parlato del che quando l'informazione è corretta il danno è ovvio cioè la possibilità di migliorare sono ovvie può succedere lo stesso che l'altra persona dica arrivederci e grazie e succede in caso di vi ricordate di feedback negativo generico negativo specifico non rispettando questi criteri che avevamo messo come fa spesa che è molto semplice che tiene conto delle emozioni in campo tiene conto della necessità di messi della specificità dell'essere personalizzato effetti negativi del proprio comportamento o delle mancanze e delle situazioni su cui si dà un'informazione che poi tiene in conto la necessità di fornire il supporto è un'alternativa comportamentale ecco quando faccio così quando seguo questi criteri sono abbastanza sicura che non ho generato un incidente diplomatico che non ho generato una situazione che prepara già alla difesa prepara già all'attacco prepara già a cercare giustificazioni prepara già a trovare un paragone no ma il tale quel giorno ha fatto come me a lui non gli hai detto niente ok quindi noi siamo qui su un percorso in cui abbiamo guardato quali sono i livelli motivazionali bisogno di competenza autonomia inclusione sociale e quella di avere un obiettivo un obiettivo che abbia le caratteristiche che permettono di raggiungerlo grazie ad un impegno grazie ad una specificità grazie ad un focus preciso e così via ok la comunicazione assertiva aiuta in questo perché la comunicazione assertiva e spero che questo sia emerso la comunicazione assertiva richiede persone consapevoli richiede persone che indagano che comprendano che empaticamente coinvolgono e rivendicano anche il diritto di dire di no il custode ha il diritto di dire di no ha il diritto di dire guardate mi è successo perché mi state chiedendo troppo e se io gli chiedo troppo e gli chiedo troppo e lui non ha il coraggio di dirlo arriviamo alla rottura o perché succede qualcosa o perché lui se ne va ed ecco perché siamo al tema del questi questi atteggiamenti queste questi accorgimenti quelli del feedback che c'è il sito bene e la comunicazione assertiva sono degli strumenti super potenti per tenere le persone agganciate con una grande motivazione ci tengo perché sembra che dovevamo parlare della motivazione dei nostri collaboratori stiamo qua che ci dobbiamo cervelare come dirgli le cose perché non se la prende male no no è proprio quello perché io se dico le cose che se le prende male se la prende male una volta due volte tre volte e poi arriva arriva il big bang no è proprio questo sbotta si arriva al conflitto si arriva alla rottura si arriva ai rischi del feedback dato male no vi ricordate nelle situazioni sbagliate ma non va nemmeno non dato è sempre anche nei momenti corretti ci tenevo perché ripensandoci mi è sorto un pochino un dubbio che voi possiate chiedervi ma cavoli ma cosa c'entra tutta questa roba col tema principale il tema principale è che abbiamo capito cosa ci motiva e se io ho un custode che è sempre puntuale ti do un feedback negativo aggressivo non si sente già più competente non si sente competente non si sente visto ed eccoci ok allora andiamo a vedere un po' Nicola hai ammazzato la mano hai ammazzato la mano per dire qualcosa nelle società sportive è capitato spesso società sportive professionistiche anche che appunto la figura del direttore sportivo da una parte e dell'atleta non riuscivano a gestire bene il feedback o magari non c'è stato il feedback e quindi c'è stata diciamo da parte dell'atleta una pezza di posizione nell'andare via dalla società e addirittura anche in alcuni casi una presa di posizione da parte dell'atlita che si è demotivato e nonostante che abbia avuto anche un grande palmaresse in passato si è visto poi chiudere la carriera ma lui stesso si è demotivato e quindi non ha voluto più continuare perché soprattutto c'è stata questa sfugliata da parte del direttore sportivo magari fatta in diretta su canali televisivi e quindi diciamo è venuta la motivazione si è vista proprio che un determinato attrito di certi livelli poi non può tutto un tratto diciamo da un giorno all'altro venire meno con apparentemente da un giorno con l'altro apparentemente da un giorno con l'altro è chiaro che sotto c'era qualcosa che già bolliva esatto ci sono casi adesso me ne viene in mente uno non so se posso citare per tu esempio nel sono fatto io diciamo questa ragione ma in realtà perché non è stato mai nell'ambito del ciclismo professionistico ci fu tanti anni qualche anno fa insomma il tempo passa il corridore Fabio per azione adeguata al Tour de France e la corba fu preparato un atletico e conseguentemente anche al ciclista ci fu un infuriato da parte del direttore sportivo Giuseppe Sarroni che tra l'altro stimo stimo moltissimo ovviamente però diciamo da quel momento in poi insomma hanno portato l'atleta Fabio Aru a praticamente ritirarsi dal mondo professionistico e che appunto sia dovuto a questo anche se nessuno l'ha mai detto io penso che diciamo con grande stima per diciamo il direttore sportivo però diciamo siccome io ho potuto verificare di persona insomma in diretta cioè la suriata da parte del direttore sportivo nei confronti del preparatore atletico ciclista professionistico è venuto in diretta e quindi diciamo diciamo è stata data la colpa direttamente all'atletico al preparatore Nicola ti ringrazio tantissimo di questo perché mi permette sì sì ma guarda stimo entrambi giusto era giusto capire le dinamiche ma tu racconti un caso che purtroppo non è un caso single adesso aggiungo a questo mio caso personale io prima ho parlato del feedback del mio allenatore in Germania vecchio stampo vecchio stampo ormai avrei smesso il feedback di mio marito che ha avuto proprio un approccio più pedagogico ok e cos'è un un corridore di una squadra di ciclismo professionistico se non un collaboratore come lo è anche il il preparatore atletico come lo è il tecnico c'è lì proprio il direttore che fa la squadra sono tutti i suoi collaboratori che insieme cercano di potarsi finanziare questo campionato ok e quante volte questi sono delle quando io parlo da un lato della motivazione a titolo gratuito no ed è quella che valorizza riconosce incoraggia accompagna facilita si confronta coinvolge programma insieme chiede le opinioni chiede feedback no e lo fa proprio all'interno di una squadra in cui tutti sono visti in base al proprio ruolo e siamo e insieme abbiamo definito l'obiettivo questo è una motivazione a titolo gratuito perché poi dopo fa sì che venga venga da dentro alle persone venga da dentro alle persone e poi d'altro canto c'è ancora questa vecchia concezione obsoleta che mortificare e responsabilizzare e denigrare e mettere all'agonia pubblica le persone possa motivarle e il fatto è che sempre più persone dicono io amo il mio sport voglio essere competitivo faccio tutto per farlo ma non a quel prezzo non a quel prezzo ed è lì dove da un lato investi per poi segare il ramo sul quale sei seduto e dall'altro lato veramente anche con una formazione adeguata che spesso dice come funzionano le aziende che gli amministratori delegati sanno tutti e raramente si mettono in gioco per fare della formazione per imparare come si gestiscono le persone raramente ci sono i direttori sportivi che magari pagano trovano i soldi eccetera e dicono quindi voi siete proprietà mia e io penso che ci si motiva così e come pensa dicendo stai a vedere che questa pianta adesso diventerà più forte no non diventa più forte a volte sì ma non grazie al tuo intervento ma nonostante il tuo intervento a volte stuzzica l'orgoglio delle persone che nonostante la tua ignatitudine la tua ignoranza diventano forti perché poi per se stessi comprendono no e sanno va bene guardo se ha ragione o no se non ha ragione mi entra di qua mi esce di là se ha ragione cerco di trasformare in un vantaggio questa informazione comunque condivisa con un modo non più moderno diciamolo proprio non è più moderno ed è proprio è super vero quello che tu dici vedi lui gli ha dato un feedback e lo ha estinto lo ha fatto implodere no e dopo possiamo dire ma un vero atleta sa superare quei momenti vabbè ma perché ma perché perché rischiare chi è più fragile da questo punto di vista e quindi crolla e quindi c'è io penso allora guarda chi lo dice che poi un atleta fragile nelle relazioni dirette con quello che è intimo qual è la squadra non sia in grado poi di farsi valere quando è in gara allora perché dobbiamo rischiare di buttare via persone e buttare via i loro sogni e le loro possibilità perché noi crediamo che possiamo arrogarci il diritto di trattarle con con mancanza di rispetto mancanza di empatia mancanza di valorizzazione mancanza di riconoscimento dei loro bisogni profondi che peraltro sono i nostri alleati questi bisogni è quel bisogno che lo motiva e perché lo devo pestare coi piedi quindi avete capito come da un lato funziona la motivazione come noi possiamo nutrire quella motivazione attraverso un fornire un feedback costruttivo rispettoso condiviso costruito e attraverso una comunicazione assertiva che che contiene anche il lavoro che possiamo fare su noi stessi no cioè mettendo via vecchie concezioni mettendo buttando via un mindset un mindset fisso in cui le cose sono come sono e non possono più cambiare ecco io ci tenevo a questo piccolo passaggio prima di vedere insieme la la soluzione che vi ho messo come una soluzione modello al caso che abbiamo affrontato guardiamo anche il prossimo caso vi ho incollato anche un terzo caso e poi facciamo una chiusura un po' una discussione tra tutti noi una specie di tavola rotonda in cui io vi chiedo ma da domani che cosa potete cambiare in voi e anche nel guardare le altre situazioni no perché sapere questo a volte a volte il microfono è il microfono acceso ti sento parlare volevi doveva connettersi qualcuno tranquilla tranquilla grazie allora spegniamolo ok grazie 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 ok e se è solo guardare con più consapevolezza un contesto in cui vengono tralasciate molte azioni proattive in grado di sostenere alimentare nutrire la motivazione delle persone che lavorano tutti insieme per un obiettivo salvo poi credere che si può motivare con con azioni negative chiamiamole così se potrebbero chiamiamole così ok allora andiamo a vedere un attimo quello che ho messo qui come soluzione immaginabile è una proposta abbiamo avuto questo incontro individuale con il custode volontario e quello che ho messo qui a voi ci sono tante cose che abbiamo già detto qui le vedete ancora anche per iscritto il direttore sportivo incontra i custodi in un momento tranquillo magari anche lontano dall'attività quotidiana ma sicuramente in un clima disteso dal punto di vista emotivo e parte dicendo del suo valore mettendo in luce quello che è il contributo apprezzato e poi però bisogna evidenziare l'errore in maniera personalizzata e evidenziando comunque che c'è stato l'errore e che poi ha portato delle conseguenze la comunicazione assertiva ma proprio dal punto di vista pratico ci sono delle possibilità di formulare in maniera assertiva so quanto ci tieni al palazzetto e quanto il tuo contributo sia importante tuttavia tuttavia e poi propone un piano per evitare futuri incidenti ma cosa pensi che possiamo fare insieme per garantire possiamo implementare un doppio controllo e qui dentro ci sta anche quest'altra cosa che abbiamo detto ma dimmi un attimo ma per te cioè costituisce un problema dire di no quando le cose per te diventano troppe per noi va sempre bene quello che fai anzi guarda te lo stiamo valorizzando ma faccelo comprendere quando è troppo inseriamo qui questo ragionamento vedete quello che sto condividendo penso di sì adesso non ho messo in presentazione ma mi è più facile anche cambiare le slide poi c'è valorizzare nuovamente l'impegno offrire anche delle soluzioni se è importante per noi però dobbiamo trovare un modo per evitare altri rischi cosa possiamo fare c'è l'occhiato chiude qualcun altro a te facciamo una checklist ti aiuta qualcuno e con questo contestualmente coinvolgiamo il custode anche nella situazione chiedendoli se ha altre idee rispetto a quello che abbiamo detto che già tutte le altre cose sono preferibilmente formulate come a mo' di domanda che poi se io domando una cosa a una persona ritengo che sappia la risposta e nutro il suo bisogno di competenza e nutro il suo bisogno di autonomia di trovare lui la soluzione ok allora ho un altro caso abbiamo tempo per affrontarlo e nella fattispecie trattasi di un feedback ad un alnatore dopo una squalifica per aver aggredito verbalmente un arbitro ok il contesto è durante una partita l'alnatore ha perso la calma e ha aggredito verbalmente l'arbitro causando la sua espulsione e una successiva squalifica questo comportamento ha avuto conseguenze negative per la squadra che ora deve affrontare le prossime partite senza il suo alnatore principale e adesso il direttore sportivo sempre perché parliamo sempre dei collaboratori il ruolo più semplice da a cui appellarsi è il direttore sportivo oppure magari anche il responsabile del settore giovanile e il suo compito è fornire un feedback assertivo e gestire la situazione delicata esprimendo un disappunto per comportamento ma senza alienarlo deve anche incoraggiare un cambiamento nel suo modo di gestire lo stress e la pressione durante le partite allora direi che il caso è chiaro un alnatore che si è fatto portare via dalle dall'attenzione del momento si è portato via dalla forza delle sue ambizioni del 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 suo ingaggio emozionale aggredito l'abitro e si è fatto espellere e adesso io sono direttore sportivo e mi devo mi devo confrontare con questa persona come possiamo fare anche nel dettaglio come possiamo parlargli quali soluzioni potremmo generare insieme a lui chi se la sente riuscite mi avete chiesto può ingrandire la slide adesso si vede l'ho ingrandita credo vero si se mi posso permettere sono frida questo è tosta perché presuppone anche una squalifica problemi seri a livello diciamo di giustizia di giustizia sportiva quindi questo è tosta bisogna capire il direttore sportivo quanto crede nell'allenatore perché qui è tosta è vero c'è una scelta a monte vabbè poi sono riduce da un master in diritto sport quindi sono tutti gli avvocati per cui vedo la giustizia sportiva qui quindi wow questa è tosta perché se il direttore sportivo comprende la reazione del del diciamo però non lo può giustificare perché questo sicuramente comporterà un aggravio su tutto quindi di spese va bene ma anche sotto profilo delle partite successive qui è parecchio allora certamente è una situazione posta chi sta parlando sono david david non ti trovo lì davide davide ok scusate sto col cellulare non ti preoccupare allora io quello che farei per analizzare bene la situazione con lui cercherei di ripercorrere quello che è successo insieme a lui in maniera come si dice a bocce ferme quindi senza più il pathos del momento senza più l'emotività ripercorrere per capire insieme a lui cose dobbiamo andare a fare altre partite con gli arbitri che sapranno quello che è successo io essendo anche un arbitro rischiare di essere etichettati sì rischiare di essere etichettati esatto io essendo anche un arbitro tra arbitri si parla guarda quella società si leggono i rapporti quando uno va ad arbitrare una partita quindi inizierei con lui a capire cosa è successo e cosa gli ha fatto scattare quel comportamento così aggressivo per poi capire tutto il resto quindi poteva fare in maniera alternativa quali erano le azioni che potevano non far arrivare a quel momento ok quindi anche le conseguenze no perché noi siamo una società che ci tiene alla sua reputazione di essere corretta sportivamente corretta fair play eccetera quindi ma quali altre conseguenze quali altre conseguenze può avere questo che è l'annatore lui può avere anche una multa dalla società ok la multa quindi una conseguenza economica economica poi quali altre conseguenze Anna Maria anche tu ma 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 direttamente il proprio atteggiamento influisce direttamente sull'emotività ed eventualmente su una reazione aggressiva dei ragazzi che tendono a seguire l'esempio dell'allenatore e quindi negativamente non solo direttamente per l'evento ma anche successivamente per la mancanza nel cioè quindi nella nelle patete successive venendo a mancare l'allenatore principale viene a mancare la figura di riferimento principale e quindi c'è una diretta conseguenza anche sulla autostima sulla consapevolezza sulla capacità di reagire a quella situazione perché si sentirebbero si sentono senza guida potrebbero sentire senza guida sì entrambe posso dire una cosa sì certo però se per esempio la squadra condivide che stanno avendo una diciamo ecco magari un arbitraggio da dove abbiamo parlato prima che comunque per loro non è non è corretto bisogna sapere quanto l'allenatore poi è sopportato perché effettivamente se uno è diciamo così chiamiamolo molto esuberante ma è nel carattere dell'allenatore già la società doveva sapere che poteva succedere una cosa del genere nel caso invece in cui una persona diciamo è più pagata però pensa di aver ricevuto delle delle ingiustizie e di conseguenza reagisce anche il discorso sulla squadra cambia cioè può essere come diceva prima la collega precedente che quindi ha il punto di riferimento oppure può essere diceva almeno ha parlato ha ragione e quindi aumenta l'aggressività in campo non è detto sono tanti gli aspetti secondo me certo sono complesse che non sono lineari in un caso evolvono in una direzione nell'altro caso uguale corrono nell'altra direzione è sempre a seconda della miscela e dei temperamenti coinvolti però allora facciamo un attimo il punto Anna Maria diceva se l'ho capito bene cavoli la conseguenza lui fa da modello lui fa da modello e la prossima volta che c'è da accettare diciamo così il verdetto di un abitro i ragazzi hanno imparato che lo si può contestare voglio intanto premettere una cosa è grafico anche i lianatori quindi nella percezione dell'ambiente è grave ma vabbè dai ci sta però noi siamo una società che assertivamente ha comunicato prima che noi ci aspettiamo determinati comportamenti perciò abbiamo un'alta sensibilità rispetto al fatto che questo è un comportamento non sostenibile ok e perché non è sostenibile proprio per quello perché lui fa da modello e i ragazzi hanno imparato che l'abitro si può contestare hanno imparato che si può sballare hanno imparato che si può agriperare la propria ragione ma in campo l'abitro ha ragione anche se non ce l'ha ok e poi l'altra parte proprio che loro adesso sono rubida e parliamo di motivazione e questo questo è un problema per la loro motivazione se non è per la loro motivazione ok quindi le conseguenze negative sono dal punto di vista legislativo sportivo legale no perché a seconda della gravità e anche della ripetitività del caso ci sono delle squalifiche e anche forse delle multe eccetera lui che è un modello ha dato loro un modello sbagliato e ha inciso sull'equilibrio complessivo della squadra sull'equilibrio complessivo della squadra e perciò queste cose le abbiamo messe giù insieme ovviamente ovviamente essendo all'interno di un contesto con una sanità la gestione del feedback sanità passatemi il termine assertiva del feedback non lo mettiamo subito all'ergastolo e perciò qui c'è Massimo che dice Massimo Nelli dice io non cambio lo schema precedente di gestione del feedback se veramente lo ritengo una persona valida eventualmente lo gestisco con uno stile di leadership diverso nel dire cosa possiamo imparare noi due da questo cosa possiamo imparare noi due da questo cosa possiamo che occasione abbiamo noi e lui per imparare dall'errore allora quindi cosa possiamo fare per imparare dall'errore oppure andiamo oltre cosa possiamo fare per perché perché lui diventi più competente perché diventi più responsabile più consapevole del carattere del fatto di essere modello ok e qui Nicola dice l'annatore è quello che deve dare sempre l'esempio nei confronti degli atleti così facendo gli atleti si può sentire anche loro autorizzati non l'avevo letto quindi ho detto quello che ha detto anche Nicola e come ho detto siamo tutti bravi abbiamo tutte molte conoscenze occorre comunque parlare all'annatore analizzare il comportamento anche nelle conseguenze negative ok allora abbiamo detto ormai la la squalifica molto probabilmente arriva già durante la partita e lì c'è un momento di grande febbre emotiva e cerchiamo proprio a stretto giro un confronto con lui in cui ci facciamo descrivere dal diretto coinvolto come si sono evolute le cose e successo quindi chiediamo all'annatore una descrizione della situazione e e poi lo mettiamo di fronte alle conseguenze le conseguenze negative per la società e comunque non era mai successo mettiamola così ok oppure oppure sempre un po' un po' accaldato ma non era mai successo che l'avessero squalificato cosa possiamo fare cosa possiamo fare affinché non succeda più quindi possiamo chiederlo a lui e secondo cosa potremmo conquistare insieme a lui come intervento promettente affinché non succeda più perché abbiamo detto che che problema c'è quando uno sballa e su tutte le furie non riesce a controllarsi qual è il problema a monte è la nuovo messaggio vediamo possiamo dargli supporto noi sì come come possiamo dargli supporto chiedendolo anche intanto dicendo guarda ti vogliamo aiutare no perché è vero è la prima volta che è successo è vero che però tendenzialmente sei focoso quindi visto che è successo una volta affinché non debba più succedere cosa può fare posso posso sì poiché siamo in una situazione di immediatezza quindi diretta è difficile porre in essere il primo punto e cioè staccarsi dalla situazione e cercare di limitare quella che è la febbre emotiva scusa scusa Anna Maria se mi prometto no no proprio noi siamo già a quel punto che abbiamo aspettato abbiamo cioè abbiamo ok siamo già lì siamo già in uno scambio assertivo in cui io società abbiamo bisogno di un'annatore affidabile guarda c'è tutto rispetto abbiamo bisogno di un'annatore affidabile che non metta a rischio la squadra per il suo tempo fuocoso e quindi cosa possiamo fare? Allora mi ricollego alla risposta precedente quindi nel dare supporto bisognerebbe affiancare o tentare di affiancare l'allenatore principale con una persona che sappia come dire dialogare e magari tira fuori sicuramente è stata una situazione di frustrazione e quindi nel dialogare e nel cercare di far sfogare quella frustrazione in maniera che non si riaccenda in un evento successivo una partita successiva quindi che non ricapiti lo stesso evento quanto meno che la tensione emotiva sia molto minore in modo che la situazione non capiti più mi viene in mente questo ok allora qui c'è sempre mi vedere c'è sempre Nicola che suggerisce serve una persona che faccia formazione per la gestione di tali situazioni che in pratica è quello che hai detto tu Anna Maria poi andiamo sempre a leggere Giovanni Bertagnini dice è rare umano per severare invece è diabolico esperienza diabolico l'ho aggiunto io esperienza e maturità formazione abbassa la febbre emotiva molta con obbligo di formazione su comunicazione assertiva ok l'ultimo allora molta con obbligo di formazione secondo voi funziona ho chiesto qual è il rischio magari sì ma abbiamo comunque un rischio abbiamo una criticità nella multa con obbligo di formazione oggi c'era Massimo che diceva noi gli diciamo che devono fare formazione e poi però non vengono non hanno voglia noi gli diciamo che devono venire ok e avevamo detto ma potremmo concordare con loro un percorso formativo perché perché l'obbligatorietà la parola obbligo non va bene cioè il concetto dell'obbligo e lo possiamo dire anche con a gamba tesa perché intanto la punizione lui l'ha già avuta perché è stato squalificato molto probabilmente verrà multato poi dopo si può convenire su come chi la deve pagare questa multa allora la formazione è una cosa corretta sulla comunicazione assertiva sì se consideriamo il fatto che parte della comunicazione assertiva fa proprio anche la consapevolezza delle proprie emozioni delle proprie motivazioni perché parte di questo fa la regolazione emotiva la regolazione emotiva e ne abbiamo parlato prima come funziona la regolazione emotiva ma proprio in due frasi la regolazione noi non possiamo non far accadere le nostre emozioni non possiamo fare c'è ancora prima di avere c'è proprio con l'arrivo dello stimolo emotigeno abbiamo anche delle reazioni fisiologiche rispetto alle emozioni no c'è un contesto che mi fa rabbia ho subito anche la reazione fisiologica della rabbia e a quel punto posso o attivare lasciare corsa il mio istinto che è sempre la prima cosa che scatta e lascio spazio al mio istinto e mi arrabbio urlo aggredisco mi difendo con le mani e con le parole aggredisco con le mani e le parole ok questo è l'istinto perché noi l'emozione non la possiamo non provare l'emozione c'è quello che possiamo controllare e regolare è la reazione emotiva e questa è o istintiva allora immediata e non ragionata oppure facciamo come dico come piace a me dire mettiamo in bozza l'emozione e lì guarda mi ricorderò di te mi ricorderò del fatto che sono stato arrabbiato ma in questo momento cosa posso fare cosa posso fare no quali sono anche le mie responsabilità e la regolazione emotiva passa attraverso l'autoconsapevolezza emotiva vuol dire riconoscere le proprie emozioni riconoscere anche le cause delle proprie emozioni perché perché lui si è arrabbiato e altre naturi non si arrabbiano perché lui si è arrabbiato ed altri no molto probabilmente perché ha un temperamento così perché ha sparato a sua volta perché lega al successo della squadra il suo proprio successo vedete come sempre si aprono mille quadri no quanti allenatori sono così focosi perché il successo della squadra è il loro successo professionale e di questo c'è quindi del suo che lui deve essere consapevole e questo lo può fare se diciamo così la sua regolazione emotiva non funziona se il suo temperamento focoso porta dei problemi allora può fare una formazione quello che vi ricordate gli ultimi due punti in cui dicevo ah ma lì può anche aiutare uno psicologo sportivo un formatore che indaga con questa persona le sue emozioni le sue motivazioni e i suoi valori le sue credenze la qualità del proprio pensiero la sua autostima vi ricordate che abbiamo detto la propria autostima aiuta la comunicazione assertiva nel momento in cui mancano certe cose che a quanto pare all'annatore mancano allora lui può lavorare così e siccome a quanto pare non ce la fa da solo perché lo si vede che è sempre poco cose quella volta sballato allora lo si può anche affiancare e facilitare il suo sviluppo personale grazie al al supporto di un professionista che sa allenare queste skills adesso vado un po' oltre sapete che suona così facile no? C'è consapevolezza emotiva cosa comporta? conosco le mie emozioni ma io conoscerò poi le mie emozioni ma figurati che io non conosco le mie emozioni ma quando si lavora con le persone e si chiede a loro di monitorare le proprie emozioni e vi confesso l'ho sperimentato tantissime volte tantissime volte ci vediamo tra una settimana in questa settimana potete fare osservare potete osservare le vostre emozioni sapete cosa dicevano dopo una settimana non ci ho avuto tempo ma perché non ce ne accorgiamo non ne siamo consapevoli non ci sappiamo dare un nome e allora vedete come la comunicazione assertiva è il coinquilino del feedback ma contiene la parte dello sviluppo personal autoconsapevolezza dell'allenabilità anche di skills che non penseremo neanche si possono allenare perciò la cosa che si può conquistare insieme a lui perché guardate che è una conquista molti allenatori non vogliono degli psicologi che affiancano le squadre perché dicono se io ho un atleta che è rotto nella testa non è un atleta che fa per me che è un atleta che può crescere dal punto di vista mentale è un atleta difettoso ancora oggi nella testa delle persone figuriamoci che un atleta un allatore dice affiancatemi qualcuno se non vi porto un danno perciò questa è già una conquista questa è già una conquista quindi abbiamo abbiamo avete visto come e poi questo per lui diventa anche questo diventa un contesto in cui non ci sono dinamiche distruttive se noi lo gestiamo così un grande conflitto un fatto grave come dice Frida si è un fatto grave e tu hai fatto il diritto sportivo adesso e ti accorgi di quanto sia grave tante altre persone dicono vabbè dai può succedere ad ogni modo è un fatto grave e gestito così non ha una forza distruttiva e per forze distruttive portano sempre anche a problemi con la motivazione perché se l'altore va via l'altore e allora dopo mi perdo anche gli assistenti mi perdo gli atleti mi perdo gli preparatori che sono venuti nel pacchetto con lui questo del calcio in qualsiasi altra squadra ecco e allora ancora una volta vediamo come il feedback costruttivo e come anche la comunicazione assertiva che comprende lo sviluppo personale la consapevolezza la maturità delle persone la maturità proprio fonte di una grande consapevolezza e di autoconoscenza ok allora ovviamente anche in questo caso vi ho messo una ho cercato di aggiungere altri aspetti però ho lasciato a voi anche un documento che poi vi vi porta alle caratteristiche di una soluzione e a delle attenzioni da portare come abbiamo detto evitiamo la febbre emotiva lo troviamo lo incontriamo in privato gli comunichiamo le conseguenze vedete l'avete detto tutto gli elenchiamo gli comunichiamo le conseguenze negative e poi il feedback deve concentrarsi sulla necessità di mantenere il controllo emotivo durante le partite perché le conseguenze negative sono fatte a modello la reputazione eccetera eccetera e perciò dovrai fare meglio dovrai fare meglio devi fare dei percorsi per gestire meglio lo stress con tecniche di gestione della rabbia di regolazione emotiva o con uno coaching per lo sviluppo emotivo perché ricordiamoci sempre che i bambini quando sono piccoli fanno fatica a gestire le loro emozioni e quando sono grandi i bambini bisogna che imparino a gestire le proprie emozioni e allora anche porre attenzione al linguaggio il linguaggio è molto importante capisco che la situazione fosse difficile ma il tuo comportamento ha avuto delle conseguenze gravi per la squadra e per la reputazione quindi capisco sì sono con te però sono anche con noi offrire supporto e suggerimenti per il futuro no? lavoriamo insieme proviamo affinché non succeda più no? cioè se lui ha trovato anche la possibilità di farsi aiutare e mostrare empatia ma anche fermezza so che vuoi meglio per la squadra però cioè questo non è il meglio per la squadra quindi dobbiamo trovare delle soluzioni ok avrei anche un terzo caso però ve lo lascio e possiamo leggerlo intanto che ci siamo che un feedback a un gruppo di genitori dopo un comportamento scorretto durante una partita è sempre questo no? perché anche i genitori sono collaboratori a Mappadè anche i genitori sono collaboratori perché sono coloro che come abbiamo detto oggi no? attraverso loro emozioni motivazioni preoccupazioni incirano fortemente sui contesti educativi psicopedagogici e quanti alnatori io faccio da docente al corso rispondente centrale al settore tecnico e lì non ho idea quante volte emerge questa difficoltà di gestire i genitori e allora vengono chiusi fuori con i cartelli no? c'è chiuso e vengono emarginati vengono colpevolizzati no? e invece sono dei collaboratori sono collaboratori perché un genitore scontento torna a casa e parla mal dell'annatore un genitore scontento porta in un'altra società il figlio e allora per chi gestisce lo sport giovanile la risorsa umana genitore è una risorsa umana molto importante ma spesso anche un portatore di criticità di conflitti di situazioni di cattivo modello da gestire e vi ho lasciato anche qua quello che sono gli obiettivi che possono essere le soluzioni no? e e e come si parla anche in maniera personalizzata no? ho notato che durante la partita ci sono stati questi episodi e coinvolgerli come dicevo prima della soluzione che può essere un decalogo del bravo genitore un decalogo del tipo corretto non prescritto non somministrato non imposto ma costruito insieme perché tutti i genitori sanno come si fa a stare al proprio posto ed essere una risorsa un collaboratore prezioso in quel ruolo salvo poi non farlo perché anche questo genitore si fa portare via dalle proprie emozioni come abbiamo detto preoccupazione tante volte eccesso di ambizione no? prevaricazione che che sia che che sia e allora va va aiutato ad andare nella direzione giusta allora vi ho messo anche qualche slide sull'ascolto perché parte parte di fa anche essere ascoltati essere considerati essere visti e l'ascolto non è c'è qualcuno parla io sto zitto e magari nel frattempo penso ad altro penso alle mie ragioni o penso penso a cosa voglio andare a rispondere senza aver sentito fino in fondo no? e perciò il buon ascolto parte senza altro dalle da una considerazione su perché a volte non riusciamo ad ascoltare e anche questo è un passaggio che normalmente co-costruisco ma sono le 5-20 e perciò metto questo come strumento no? a volte non riusciamo ad ascoltare perché ignoro quello ascolto solo per dovere o interrompe perché tanto sono io l'esperto cosa vuoi mai no? è più importante quello che so io oppure l'altro parla io con la mente sono in Australia quindi anche non sono esattamente interessato oppure ascolto solo quello che mi interessa ho la mente spenta e poi arriva una parola trigger e salto su oppure ascolto col filtro col giudizio col produgizio invece l'ascolto attivo comporta un'apertura al messaggio e volevo sapere da voi prima di passare all'ultima parte in cui chi ha voglia di partecipare chiedo da domani cosa potreste fare una azione concreta allora qui c'è scritto l'ascolto con filtro con un giudizio pregiudizio aspettativo e perciò occorre sospendere il giudizio occorre non avere un giudizio secondo voi come funziona sospendere il giudizio come funziona sospendere il giudizio come funziona non avere un pregiudizio provo a dire provo a far come dire ad attendere attendo meglio i fatti quindi metto in pausa un attimo quello che io posso pensare preventivamente dando all'altro la possibilità di esprimersi con i fatti quindi mettendo in campo le proprie competenze capacità valutazioni anche opinioni perché no e a quel punto cerco di rivedere di correggere quello che nel caso sia io posso aver pensato prima quindi cercando di correggere me stessa indirizzando sulla base di quello che ho ottenuto e riformula a quel punto un giudizio allora molti passaggi giusti in un concetto in una soluzione un po' più ampia rispetto a quello che hai chiesto allora innanzitutto ancora prima di fare quello che tu hai detto Anna Maria ancora prima di questo è tutto giusto quello che hai detto tu ma ancora prima di quello cosa serve una possibilità cioè io se se devo sospendere il giudizio e se io devo evitare il pregiudizio per prima cosa cosa devo fare la prima cosa da fare forse mi devo porre nella situazione di essere aperto ad ascoltare qualsiasi cosa ancora prima perché se non hai fatto la cosa a cui io mi riferisco rischi di ascoltare col pregiudizio rischi di ascoltare col giudizio quindi e bisogna lasciare da parte i preconcetti sulla situazione come faccio a lasciare da parte i preconcetti sulla situazione guardate che è banalissimo adesso quando ve lo dico dite era chiaro ma non è così chiaro prima di sospendere il giudizio io devo conoscere il mio giudizio prima di giudicare devo sapere che giudizio andrei ad esprimere perché non ne siamo consapevoli avete presente questi uomini che calza molto bene come esempio esiste una cosa che si chiama mansplaining sono gli uomini che spiegano il mondo alle donne che c'è dentro il pregiudizio che loro sono superiori alle donne c'è dentro il pregiudizio che loro la sanno meglio di loro delle donne e loro non sono consapevoli loro si sentono generosi sentono di essere cavalieri però nel farlo è un giudizio che le donne sono inferiori e questo adesso esiste il fenomeno del mansplaining che c'è dentro un pregiudizio esiste quel mansplaining perché loro non sono consapevoli di questo giudizio e allora parte dell'ascolto fa sospendere il giudizio e vuol dire per poter fermare una macchina devo essere dentro a quella macchina devo sapere che ci sono dentro quindi vuol dire io conosco il mio giudizio e poi per sospenderlo fino in fondo accolgo accolgo quello che dice l'altro chiedendo riscontro e anche su questo io vi ho messo qualche qualche cosuccia e andiamo se va ecco cioè intanto il conflitto nasce da questo e nasce perché si afferma il proprio ruolo le proprie idee le proprie opinioni le proprie ragioni del proprio io scusami posso interrompere? sì posso io penso che in realtà magari la inconsapevolezza deriva dal fatto che non si pensa di avere un giudizio si pensa di avere una conoscenza no? non la si considera un giudizio certo la si considera una conoscenza ecco infatti infatti hai detto benissimo hai detto benissimo sto io è così sto io è così però perché ti ho detto molte volte bisogna conoscere il proprio giudizio però quello che si conosce si presume che non sia un giudicare sia una conoscenza molte volte anche assoluta è così cioè non so come come dirtelo cioè non è un giudizio che diventa quindi poi un pregiudizio è un dato di fatto si pensa che sia un dato di fatto ma Nicoletta hai detto bene così si pensa che sia un dato di fatto no? pensate c'è come un sociologo guarda il mondo come un un economista guarda il mondo come un politico guarda il mondo il mondo per loro è così così come loro lo vedono spesso non riescono neanche a vedere la lente della loro è proprio a estrazione professionale è proprio quello che tu dici sì e per quello che dico è importante cioè io c'è dal mio punto di vista io sono una psicologa e io la vedo così almeno ho detto guarda c'è la lente attraverso la quale io guardo è quella della psicologa la lente attraverso la quale io guardo è quella dell'atleta la lente attraverso la quale guardo è quella della formatrice in aula e molte volte la nostra visione del mondo coincide con la visione del mondo e per questo c'è il mensplaining loro c'è culturalmente l'uomo ancora in certi casi si sente superiore alla donna e le spiega al mondo ma neanche se ne accorge e per quello per lui è la realtà e direbbe sempre però che la donna non la considera inferiore ok e credo che alla fine stiamo dicendo la stessa cosa hai detto non se ne accorgono è per ciò che dico sii consapevoli sii consapevoli del tuo pregiudizio sii consapevoli del giudizio che tu hai ancora prima di conoscere la persona e perché altrimenti c'è altrimenti nascono i conflitti che arrivano all'affermazione il ruolo le proprie del la propria espressione il proprio background sociale professionale di studi eccetera che diventano proprio io e c'è una piccola bellissima strategia è ascoltare bene ascoltare bene e verificare se si è capito bene tipo no vediamo se ho capito bene quindi tu mi stai dicendo quindi secondo a te è così così dal tuo punto di vista quindi e si va a riformulare che ha detto l'altra persona cosa comporta che l'altra intanto si capisce se si è capito bene e l'altra persona si rende conto che noi abbiamo per davvero ascoltato adesso sono veramente le 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 due strategie sull'ascolto condiviso che fa parte del feedback perché quando uno mi dà un feedback io non riesco ad ascoltare perché penso che quello lì ce l'ha con me è un problema quindi io quando ricevo un feedback sospendo il mio giudizio sulla persona che ce l'ha con me ascolto e testo verifico se può avere ragione o no se ha ragione vedo di farlo mio questo feedback e di agire dei cambiamenti se credo se credo che non abbia ragione in maniera assertiva comunico e dico guarda ho capito quindi tu mi hai voluto dire questo e questo ecco sì però guarda non è così non è così come dici ok allora qualcuno che adesso abbiamo avuto tante tante ore ma sono campi enormi campi enormi e poi non siamo facilitati è bello potessi trovare online perché molti di voi non avrebbero potuto partecipare in nessun momento se non fosse stato online che è una grande facilitazione ma ovviamente anche un po' una difficoltà quindi io spero che per voi sia arrivato il collegamento dall'eleve motivazionale all'importanza del feedback e dalla comunicazione assertiva di cui ancora una volta ancora a sua volta fa anche parte l'ascolto cosa vi qualcuno ha voglia di dirmi allora io adesso torno a casa e faccio una cosa che prima non facevo cosa mi porto a casa vabbè forse diciamo in realtà l'ultima immagine che è messo prima di questa quando lui e lei stanno gridando tra di loro quindi per me riassume un po' tutto perché effettivamente in quel modo non si comunica e quindi quello mi porto ma anche diciamo nella mia famiglia nella mia esperienza proprio umana non soltanto in ambito lavorativo in ambito sportivo quell'immagine diciamo mi rimarrà diciamo mi porto a casa e da domani la uso sì ti porti a casa nel momento in cui hai più contezza delle leve motivazionali tenere conto del bisogno di competenza significa che non ti dico che sei un asimo ma ti dico non sai ancora fare però hai molto coraggio di provarci ok quindi questo è l'effetto della incompetenza è il conflitto il conflitto è l'effetto dell'incompetenza nelle soft skills di cui abbiamo parlato oggi grazie grazie Nicoletta grazie a te grazie altro allora io mi porto l'attenzione sui collaboratori per farli sentire sempre parte del team e del progetto e quindi di coinvolgerli ovviamente limitatamente ai ruoli in tutte le attività che si fanno perché poi porteranno a un feedback che di cui i collaboratori già conosceranno perché avranno partecipato a tutte le fasi e quindi anche loro forse sapranno già i loro punti di forza i loro punti deboli come migliorare come proporre e come proporsi grazie 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 mi sentirei di dire anche questo cioè coinvolgere le persone nella pianificazione coinvolgerli anche nell'ideazione non vuol dire prendere tutto quello che loro dicono ma il fatto di poter partecipare e avere anche una non accettazione di un'idea ma perché è stata assertivamente comunicato ok però li hai ritenuti all'altezza di partecipare quindi li stai certificando competenza e permetti loro di realizzare un loro bisogno grazie grazie davide un'altra cosa di dire cosa si porta a casa tante riflessioni perché tante riflessioni perché poi di fatto non è semplice calibrare i comportamenti in base a dove ci si trova e con chi ci si trova quindi diciamo che è un continuo un continuo lavoro quello della comunicazione cambia cambia in base anche a dove ci troviamo con chi se io penso che se sto a scuola devo interagire con gli allunni con i colleghi con la dirigente vado fuori con le persone in generale o ecco quando ci si incontra anche in altri ambienti bisogna essere talmente tanto non lo so non si può avere un un atteggiamento unico perché poi comunque si fa i conti con chi si è con le proprie esperienze con il modo in cui devo affrontare la vita perché questo insomma poi nello sport queste situazioni sono anche tra virgolette un po' esasperate nel senso che comunque il sentimento lo sport te lo tira fuori e quindi anche un certo grado di aggressività quando nel senso buono del termine se poi diventa negativo no quello è da assolutamente sanzionare quindi grazie quindi ti porti a casa che sei dentro a una complessità è la complessità che non c'è nulla di lineare e perciò bisogna è un cantiere aperto ogni giorno ok Anna Maria grazie grazie Frida io ragionavo su tre cose una richiedere eventualmente un feedback più continuo ai collaboratori più continuo intendo dire che è un feedback che una volta pensa di tempo attraverso il come va tutto bene e quindi non ci si non ci si mette neanche nelle condizioni o meglio non si mette l'altro nelle condizioni di effettivamente esternare un eventuale disagio o un eventuale come dire ragione di una mancanza di una motivazione proprio perché noi stessi non abbiamo il tempo di ascoltare e quindi questa è la prima cosa che mi porto a casa quindi è un appunto che mi faccio personalmente il secondo appunto è nei confronti invece della diciamo della dirigenza di coloro che mi stanno sopra perché spesso e volentieri per evitare conflitti all'interno di un gruppo tanto più se si si parla di associazioni sportive e quindi si ha a che fare con genitori con collaboratori che spesso magari sono ragazzini minorenni eccetera eccetera per evitare conflitti all'interno di una squadra si tende a procrastinare quindi a direzionare il momento del confronto quando invece sarebbe opportuno con le dovute come dire le dovute cautele magari non metterlo proprio nella prossimità come abbiamo detto prima ma aspettare il momento giusto ma parlo quindi mettersi e questo diciamo questi sono e poi l'ultima cosa è il dovere visto che l'argomento è come motivare dei collaboratori spesso e di questo me ne faccio carico per evitare un sovraccarico di un lavoro per evitare un sovraccarico ad un collaboratore spesso non chiedo di partecipare ad un corso di magari di formazione che gli sarebbe necessario di portare avanti un determinato compito perché mi rendo conto che noi tutti siamo sovraccaricati quindi siamo al limite delle nostre possibilità quindi ma tante volte questo potrebbe essere invece uno sprone uno stimolo no per per legarlo per motivarlo per per aiutarlo nella propria crescita e quindi anche questo è un dovere che mi porto a casa ma guarda ti butto là anche un stimolo no patichiari amicizia lunga molte volte davvero oggi è messo tante volte una buona programmazione una buona pianificazione ma anche una buona definizione c'è i manzionari i ruoli c'è le regole di ingaggio no concordato insieme prima allora è chiaro allora nel momento in cui io dico io accetto di collaborare e so e abbiamo patteggiato insieme che siamo tutti nell'ottica della formazione continua tu dopo assertivamente puoi dire guarda che eravamo d'accordo è tanto guarda fa parte del compito ma perché l'avete detto prima patichi chiari amicizia lunga ovviamente c'è questa programmare insieme vedere insieme definire bene insieme e dopo con assertività ti poi rifaranno qualcosa che avete concordato e sono quelle è quella mezz'ora che ti devi ricavare all'inizio dell'anno che però poi porti a casa il raccolto tutto l'anno perché perché è spesso anche così che le persone accettano e dicono e non è chiaro cosa c'è da fare perché è hot no e poi salta fuori anche quello giusto ok grazie 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 sì sono le 5 abbiamo il piacere di avere con noi il direttore della scuola dello sport l'entisport impact Rossana ciuffetti che ci porta il suo saluto buon pomeriggio grazie Giuseppe ho ascoltato questi ultimi questo laboratorio credo che poi alla fine che è molto bello cioè l'interazione con i partecipanti Mirella mi ha detto che è andato tutto molto bene sono molto contenta ma insomma lo sappiamo campionessa olimpica diciamo sul campo o comunque insomma sul campo di gara ma campionessa olimpica anche nell'ambito della formazione con grande impegno ma soprattutto con una capacità di raggiungere il risultato adesso io ho ascoltato cioè essere diciamo efficaci nella nel raggiungimento dell'obiettivo che si vuole in qualsiasi campo poi si si può realizzare ma credo che questo sia un allenamento importante la parte psicologica è fondamentale l'approccio ma soprattutto anche la lettura del contesto io lo racconto perché sono due settimane che ci penso e sono andata a Bologna a vedere la Coppa Davis e sono rimasta così tanto sorpresa ma in modo entusiastico dal vedere che quando si raggiunge l'obiettivo che hanno raggiunto l'obiettivo di farla finale no un obiettivo tecnico ma accanto all'obiettivo tecnico c'era l'obiettivo di formazione e accanto all'obiettivo di formazione c'era l'approfondimento sulla formazione quindi quando tu vedi che si raggiungono i risultati cioè i risultati sono risultati non soltanto dell'atleta sono i risultati di una squadra che lavora insieme all'atleta ho visto una cosa Josefa che sono sicura a te piacerà tantissimo ma lavoravano sulla multilateralità e quindi chiedono chiedevano diciamo al coach ma anche ovviamente all'atleta la capacità di guardare non soltanto davanti ma leggere il contesto e questa è la lettura del contesto è fondamentale ma non soltanto nel campo di gara è fondamentale nella vita ma se tu ti alleni a quello poi riesci in tante cose io devo dire lì ho imparato allora due cose devo dire quando l'atleta non andava a punto tu vedevi tutta la squadra dei maestri di tennis la squadra il team Davis che si alzava e applaudiva no quando le cose andavano bene ok non c'era granché ma quando le cose non andavano bene e il punto lo faceva l'altro e allora ho detto vedi questa è proprio formazione cioè no questa è proprio capacità di fare squadra vera ma soprattutto di raggiungere insieme e alla fine quel risultato è un risultato di tutta la squadra è bellissimo da vedere ma se noi quello lo replicassimo nella vita quello sarebbe innanzitutto molto più bello perché secondo me vincere in squadra è ancora più bello e ti senti anche protetto cioè non ti senti da solo per cui io ho pensato diciamo questo e quindi volevo soltanto salutarvi ringraziare ovviamente Iosefa e insomma e dateci anche dei vostri contributi in termini di idee attività che possiamo mettere in calendario nel 2025 perché siamo alle prese con la nuova calendarizzazione con la nuova programmazione dateci idee anche su queste tematiche grazie a tutti un caro saluto e grazie Iosefa grazie grazie Rossana per averci raggiunti e condiviso con questa osservazione conosco Michelangelo De Ledera che è da anni che sta facendo portando avanti questo pallino suo della formazione con delle cose veramente delle strategie invidiabili ok grazie grazie mille a presto ciao 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 Mirella io mi scollego perché devo correre devo andare devo andare al prossimo senti possiamo dare un po' di materiale ai partecipanti io lo riguardo un attimo te lo mando domani mattina quindi un po' di pazienza poi ho preso nota di tutti i presenti quindi manderò tutto quanto io grazie mi veniva da pensare che hai fatto in una giornata un intero corso di formazione davvero credo eccisivo e te ne sono molto grata veramente perché è stata una giornata bellissima credo che sia stato un bel regalo per i nostri partecipanti grazie complimenti anch'io complimenti un saluto anche da parte mia ho seguito in buona parte il seminario e complimenti perché il metodo interattivo induttivo è ottimo per arrivare in profondità mi sembra che le cose siano state maturate insieme ecco anch'io sentendo gli esempi la riflessione congiunta un'ottima modalità grazie 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 Guido grazie ovviamente da formatore per eccellenza avere un feedback così fa sempre piacere grazie già che parliamo di feedback grazie ciao Mirella il contenuto della chat è possibile averlo? proviamo ci guardi tu io vi saluto vi ringrazio grazie a tutti quelli che avete seguito grazie a tutti attivamente grazie a tutti grazie mille per il seminario che hai fatto è stato fantastico grazie 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 ciao grazie anche il tuo giudizio mi è molto caro grazie a me personalmente la giornata è volata positivo ok bene grazie mille allora alla prossima grazie alla prossima ciao 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 grazie a tutti visto che si è parlato anche di genitori poi no e avete un compito a casa che riguarda anche l'interazione genitori società sportive ricordate che il 22 novembre abbiamo un appuntamento su questa tematica quindi non ci lasciate vi tocca seguire per quello ciao 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 arrivederci a tutti ciao scusate starei qui a chiacchierare ma direi a Udine ciao 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 abbiamo spremuto abbastanza ciao 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 come si salva la chat qualcuno ha un suggerimento da darmi copiare e incollare eh? copiare e incollare ehi no penso che è possibile fare no sicuramente la trono no quasi sicuramente la selezione copiare e poi metterla su Word scorri in giù anch'io faccio così Mirella scorro in giù con pazienza ma qui è chilometrica è chilometrica poi e dopo tolgo un po'